Sconfitta per 5 a 1 per il Verbagna in casa contro il Prato. Andiamo a vedere le occasioni e i gol che hanno caratterizzato la gara del Pedrali. Subito in vantaggio la formazione ospite, c'è un fallo di Gatti al limite dell'area su Fofana. La punizione di Tommy è perfetta e si insacca l'incrocio per l'1-0. Al sesto arriva il raddoppio della squadra ospite, ancora Tommy sulla fascia mette la palla in dietro e Fofana da pochi passi non ha problemi a mettere in rete. Il Verbagna protesta per una presunta uscita del pallone al momento del cross. Ancora Prato con il suo rago che si invola verso la porta, il suo tiro viene murato da Panzagna. Al 43 arriva il terzo gol con la sponda di Fannucchi con Regoli che tira raso terra e trova la terza rete. Nella ripresa si fa vivo il Verbagna dopo tre minuti con un tiro cross di Artiglia che però scuba sul fondo. All'ottavo ci prova Ibe ma la sua conclusione termina a lato. All'undicesimo Regoli cerca la doppiata personale ma il suo tiro è sopra la trasversale. Arriva il quarto gol al 24esimo con Diara Subba che dopo un rimpallo tra Russo e Fannucchi riesce dal limite dell'area. Mette in rete Verbagna che sfiora la rete della bandiera al 26esimo con Colombo che però non trova da pochi passi la via del gol. Arriva alla mezz'ora la quinta rete ospite con Tommy che si regala la doppiata personale oltre all'assistro. Un calcio di punizione che si infila e ne porta per il 5 a 0. Al 35esimo Mariani che chiama la parata Russo che mette in angolo. Arriva al 38esimo il gol del Verbagna come si dice in questi casi il più classico del gol della bandiera con un tiro cross di Panzani che si infila all'incrocio. Termina così la gara delle Pedroni col prato che vince per 5 a 1.